...e fare su un arcoscenico, come ve la potrei descrivere una scappietta della consistenza del palco che è partita dall'infondo e gira a gira nell'attesa della gara è arrivata sulla mia serie e mi ci sono seduta solo, è quello che poi qualche disgraziato chiama in mezzo della direzione. Comunque continuiamo con la dance school di R.A. diretta da Patrick Beckett e su coreografia di Patrick Beckett la colpa è solo mia. Nobodies fall but mine 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti